Donatella Rettore gravemente malata i reni Donatella Rettore gravemente malata i reni Talenta le quale show spiegando al grande pubblico di avere una infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie superiori La cantante, classe 1955, era una delle partecipanti del famoso talent, in onda sulle reti Rai, condotto da Carlo Conti Proprio ieri, durante la puntata, il conduttore ha spiegato che la Rettore sarebbe stata sostituita da un nuovo personaggio, Dario Bandiera, a causa di gravi problemi di salute E' stata la stessa Donatella a voler mandare un video e scrivere sui vari social, le sue reali condizioni di salute, facendo preoccupare i suoi numerosi fan Infatti, non essendosi presentata alle prove, aveva già scatenato la preoccupazione degli stessi, che cercavano di avere chiarimenti tramite i canali social a lei dedicati Non si hanno altre notizie, in merito alle condizioni di salute, questa grave malattia, potrebbe essere una conseguenza alla talassemia, che ha colpito la cantante già da tempo Moltissimi messaggi e di cuore d'incoraggiamento da parte di fan e colleghi, che aspettano il ritorno della Rettore, augurandole una pronta guarigione Lei non ha lasciato trasparire nulla, durante la partecipazione al talent, fino a cedere e non riuscire più a reggere il passo e mancare alle prove del programma